Colpi di scena chi sono i VIP che faranno scalpore al Grande Fratello 2024? Visita il sito gns247.net per seguire le ultime notizie. Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello è ufficialmente iniziato e l'attesa non potrebbe essere più alta. Con l'annuncio dei primi otto concorrenti VIP, il celebre reality show di Canale 5 si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico italiano. Alfonso Signorini, il carismatico conduttore, conferma la formula che ha riscosso grande successo l'anno scorso, un mix di celebrità e persone comuni, un cocktail esplosivo che promette intrighi, emozioni e colpi di scena. In queste ore, i nomi dei primi concorrenti VIP sono stati finalmente svelati, suscitando già un vivace dibattito tra fan e critici. Tra i prescelti troviamo figure note del mondo dello spettacolo e della cultura pop che sicuramente non passeranno inosservate. Ecco chi sono i protagonisti di questa nuova avventura. Clarissa Barth, icona degli anni Ottanta, attrice e modella, conosciuta per il suo fascino e il suo spirito indomito. Clayton Norcross, volto amato delle sopa opere internazionali, ricordato per il ruolo di torne Forrester in Beautiful. Enzo Paolo Turchi, coreografo e ballerino di fama, marito della showgirl Carmen Russo, con un'esperienza televisiva di lunga data. Giulia Mannucci, influencer emergente, con un seguito crescente sui social media, pronta a portare freschezza e modernità nella casa. Elena Prestes, modella e attrice, nota per la sua bellezza esotica e il suo carattere deciso. Iago Garcia, attore spagnolo, famoso per i suoi ruoli in telenovelas di successo come Il Segreto e Una Vita. Ilaria Galassi, ex stellina di Non è la Rai, che torna sotto i riflettori dopo anni di lontananza dal mondo dello spettacolo. Jessica Morlacchi, cantante e musicista, ex voce dei Gazzosa, gruppo pop che ha segnato l'inizio degli anni 2000. La nuova stagione del Grande Fratello prenderà il via il 16 settembre e sarà trasmessa due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Questa cadenza bisettimanale darà al pubblico la possibilità di seguire da vicino le dinamiche della casa e di affezionarsi ancora di più ai concorrenti. Il format misto, con VIP e persone comuni, rappresenta una sfida intrigante. Da un lato, ci sono celebrità con storie già note al pubblico, dall'altro, individui comuni che porteranno nuove narrazioni e offriranno un'ulteriore dimensione di autenticità al programma. Nonostante le critiche che puntualmente accompagnano ogni edizione, il Grande Fratello continua a essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti in Italia. Merito anche di Alfonso Signorini, che con la sua conduzione è riuscito a rinnovare il programma, mantenendolo attuale e al passo con i tempi. La sua capacità di gestire le dinamiche interne alla casa e di coinvolgere il pubblico da casa ha contribuito a consolidare il Grande Fratello come un fenomeno di costume. Con il cast VIP ormai quasi definito, le aspettative sono alle stelle. Riusciranno questi otto personaggi a conquistare il cuore del pubblico e a regalare momenti indimenticabili? Non ci resta che attendere l'inizio del programma per scoprirlo. Quello che è certo è che anche questa edizione del Grande Fratello promette di far parlare di sé, con storie avvincenti, legami inaspettati e, come sempre, qualche inevitabile colpo di scena. Nel frattempo, continuano i casting per completare il gruppo di concorrenti con persone comuni, alla ricerca di individui con storie particolari e capaci di creare dinamiche vincenti. La macchina del Grande Fratello è ormai in moto, pronta a regalarci una nuova stagione di emozioni e sorprese. Sanremo 2025 si preannuncia già come un'edizione imperdibile, con il ritorno di Carlo Conti alla conduzione dopo le acclamate edizioni di Amadeus. L'area di novità e il fervore che circondano il festival non si limitano solo al cambio di direttore artistico. sembra che Conti abbia già messo gli occhi su una concorrente che promette di lasciare il segno. Il nome che sta facendo sognare il pubblico è quello di Gaia Gozzi, una delle voci più apprezzate della nuova generazione musicale italiana. Proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi, Gaia non è certo una novellina nel mondo della musica. La sua carriera è iniziata con X-Factor, dove ha mostrato per la prima volta al grande pubblico il suo talento, ma è stata la vittoria ad Amici nel 2019 a consacrarla come una delle stelle nascenti del panorama musicale italiano. Carlo Conti, sempre attento ai talenti emergenti, avrebbe individuato in Gaia la candidata perfetta per il suo Sanremo 2025. La cantante, che ha già calcato il palco dell'Ariston nel 2021, potrebbe tornare in grande stile, pronta a conquistare ancora una volta il cuore degli italiani con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica magnetica. Le trattative tra Gaia e la direzione del festival sarebbero già in fase avanzata, e i fan non vedono l'ora di avere la conferma ufficiale. Il successo estivo di Gaia con Light, Sesso e Samba, in collaborazione con Tony F., è stato solo l'ultimo di una serie di trionfi che l'hanno vista dominare le classifiche. La canzone è rimasta al primo posto nella classifica Fimi per ben dieci settimane, un risultato che conferma la sua crescente popolarità. Se la partecipazione di Gaia dovesse essere confermata, Sanremo 2025 potrebbe davvero riservare sorprese indimenticabili. La giovane artista, con la sua capacità di spaziare tra generi diversi e la sua energia contagiosa, è pronta a portare sul palco dell'Ariston una ventata di freschezza e modernità. Carlo Conti, da sempre abile nel creare edizioni memorabili del festival, sembra aver trovato la chiave giusta per aprire una nuova era di successi sanremesi. Il ritorno di Gaia sul palco più prestigioso d'Italia potrebbe rappresentare non solo un'occasione per confermare il suo talento, ma anche per raccontare una nuova pagina della sua carriera, mostrando al pubblico quanto è cresciuta e quanto è pronta a stupire ancora. L'attesa cresce, e con essa l'entusiasmo dei fan, che già immaginano la magia che Gaia saprà creare al Festival di Sanremo 2025. Mentre le trattative proseguono, l'attesa per l'annuncio ufficiale diventa sempre più palpabile. I fan di Gaia Gozzi, entusiasti all'idea di rivederla sul palco dell'Ariston, non smettono di sperare che la giovane cantante accetti la sfida di Sanremo 2025. Con Carlo Conti alla guida, questa edizione potrebbe rappresentare il trampolino di lancio definitivo per Gaia, consacrandola come una delle protagoniste assolute della musica italiana. Mediaset si prepara a mettere a segno un colpo clamoroso nel panorama televisivo italiano, strappando una delle conduttrici più amate della Rai. Secondo voci sempre più insistenti, Simona Ventura, una figura iconica del piccolo schermo, potrebbe essere sul punto di fare un sorprendente ritorno alla rete che l'ha consacrata. Durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato il successo crescente di Mediaset, che con un impressionante 40,8% di share si conferma come il principale broadcaster in Italia sul target commerciale. Non solo, ma con 9,5 miliardi di visualizzazioni online, Mediaset domina anche il panorama digitale, doppiando il secondo classificato. Un traguardo che Berlusconi ha attribuito alla ricchezza e alla varietà dei contenuti offerti, siamo arrivati a 20,9 mila ore di prodotti tra settembre e maggio. Nessun altro broadcaster in Europa può vantare una produzione così vasta e diversificata. In questo contesto di rinnovamento e crescita, il ritorno di Simona Ventura a Mediaset potrebbe rappresentare una delle mosse più audaci della stagione. Dopo aver trascorso gli ultimi anni in Rai, dove ha continuato a consolidare la sua carriera con programmi di successo come il Citofonare Rai 2 e il Popolare e Che Tempo che fa, la conduttrice potrebbe ora essere pronta a raccogliere una nuova sfida su Canale 5. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, l'avventura sarà impegnata in una stagione televisiva molto intensa. Oltre a tornare al timone di Citofonare Rai 2 accanto a Paola Perego e a essere una presenza fissa al tavolo di Che Tempo che fa, nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2. Tuttavia, ciò che ha acceso maggiormente la curiosità degli spettatori è la possibilità che Mediaset le affidi un programma di punta su Canale 5, una sfida ambiziosa che potrebbe segnare una nuova fase nella sua carriera. Le trattative sono in corso, ma il ritorno dell'avventura su Mediaset, anche solo come ospite al Verissimo per presentare le immagini delle sue nozze con Giovanni Terzi, potrebbe rappresentare il preludio di una collaborazione più profonda. Qualunque sia la decisione finale, una cosa è certa, Simona Ventura sarà una delle protagoniste assolute della prossima stagione televisiva, pronta a sorprendere e a conquistare nuovamente il cuore del pubblico italiano. L'attesa per il possibile ritorno di Simona Ventura su Mediaset si fa sempre più elettrizzante. Il pubblico non vede l'ora di scoprire quale ruolo potrebbe ricoprire la conduttrice, che con il suo carisma e la sua esperienza potrebbe facilmente riportare Mediaset ai vertici dell'audience. In un panorama televisivo in costante evoluzione, il ritorno dell'avventura potrebbe essere il tassello mancante per un palinsesto già ricco di novità e grandi nomi. Le prossime settimane saranno decisive e potrebbero riservare sorprese che segneranno il futuro della televisione italiana.